La sostenibilità è fondamentale per un futuro migliore. E' fondamentale anche considerando la qualità della materia prima che arriva al ristorante. Sono sempre più propenso a creare piatti che già nella creazione si rendono conto dei scatti che potrebbero essere affinché questi scatti poi vanno reintrodotti dentro la filiera dei nostri menù e così che riduciamo lo spreco al minimo. Abbiamo cominciato 12 anni fa con il ristorante La Pergola, il ristorante del cuore, il ristorante dove ha cominciato tutto. Quando abbiamo implementato una cucina sull'ultima tecnologia è tutta controllata con un sistema computerizzato affinché il consumo energico va sempre a passato più possibile. E poi abbiamo ancora tante tante sfide davanti a noi. Una di quelle è la sensibilizzazione delle masse affinché tutto diventa più sostenibile. Non dobbiamo dimenticare che abbiamo tutti figli, nipoti. Che cosa dobbiamo lasciare a loro? Un mondo dissastrato o un mondo mio? Che cosa dobbiamo lasciare a loro? Che cosa dobbiamo lasciare a loro? Che cosa dobbiamo lasciare a loro? Grazie.